Oggi, mi prego, Chiarugi, vieni alla lavagna, Chiarugi, vieni, Chiarugi, allora, disegniamo un grafico nella funzione, ecco, ma sono più veloce, Chiarugi, sei lenta, ma insomma, ma lo puoi fare sì o no questo cavolo di grafico? No, vai al posto, vai al posto, vai al posto, vai al posto, vieni al posto, analizziamo la funzione x più y più z, ma poi metto una x qui, metto una x di daia, poi mi viene così, posta. Presta, presta, ti dice almeno? Ma, ma non è che possiamo stare a fare tutte queste disquisizioni, eh? Conle, con attenzione, specia, specia e dormi! Ma dopo mezz'ora la personaіш bebe abbi la risposta! Ma come l'idea? Mi fai da posto! Mi posso andare a vedere. Presidente, scusi, siccome insomma abbiamo fatto l'integrario oggi, non è che si farà No, 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 Presidente, no, no, non voglio sentire nulla, non voglio sentire. Il compito? E questo? Si fa il bambino. Ma? Ma c'è un signore da contare? Ma la professoressa è andato già a ripassare, così, beh, insomma... Tutto! Ma non è che si può dare un indirizzo? No, no! Ma ti sa che tu te l'abbiamo fatto oggi? Ma, Peruzzi, non è che ti posso dare il compito che mi passano dal ministero? Io ho le mie conoscenze, però... Mi arrezzerebbe, non è che ti dici queste cose. Magari ci possiamo ritrovare per piacere dopo la fine della scuola... Però... Comunque ora devo ridare il compito, mi fai ridare i compiti o no? Amico! Amico! Non ci siamo! E il registro? Non c'è? Bagnoli! Non ci siamo! Meglio, Gioia! Barbariera! Non ci siamo! Tanturini! Non ci siamo! Non ci siamo! Mi amici. Grazie.